Ciao a tutti, io sono Panzer, io sono Skull e oggi parliamo di DEVGO, M4A1 by Classic Army. Amici di Raffus, qua davanti a noi abbiamo due fantastiche ASI Dream. DEVGO M4A1 by Classic Army, un'ottima ASG, rapporto qualità-prezzo ottimo e un'ottima base sulla quale poter lavorare. Ne approfitto subito per guardare un pochino più da vicino l'ASG, ASG full metal, logata DEVGO sul lower receiver, parte in polimero solo esclusivamente paramano, grip e calcio. Vediamo, troviamo subito. Troviamo subito l'opap rotativo in metallo, ovvero l'opap rotativo a differenza di un'opap standard, implica una maggior precisione nella regolazione dell'opap. Lo scarrellamento meccanico non è altro che semplicemente il movimento di questo finto otturatore per simulare il movimento di un'otturatore di un'arma vera e si sente appena appena un rincuro molto leggero perché questo filtro otturatore qua ha una leggera massa battente. Vediamo il motore high torque, ha comunque buone prestazioni. ASG classica, compatta, solida, pulita, fruttata di carrellamento, ma non per questo. Non possiamo toglierci lo sfizio di sparare 200 falli nel secondo con me, perché possiamo modificare ogni suo alcol, ogni sua forma, ogni suo colore. Parliamo ora della promozione vigente su questa ASG. No, nessuno se l'aspettava questa. Davvero, è arrivata! Fino ad esaurimento scorte sono in vendita così, a un prezzo molto ridotto rispetto a quello che il mercato propone. Possiamo approfittarne per dei custom estetici, molto leggeri come questo qua davanti, ovvero Grip Moe o D-Green, accoppiato con calcio CTR o D-Green, custom molto standard, molto semplice da applicare. In alternativa, si possono fare custom estetici un pochino più elaborati, come ad esempio l'applicazione di RIS, Daniel Defense, 7 pollici o 8 pollici, o anche diversi calci come vediamo. Oppure fare custom interni a livello meccanico per aumentare notevolmente le prestazioni. installazioni di centraline, oppure la sostituzione di parti meccaniche, ingranaggi, motore, gruppo aria o quant'altro, di varie marche, ad esempio FPS, ATS, Top Max. Possiamo appunto spaziare in milioni di custom diversi uno dall'altro. Non esageriamo! Possiamo spaziare su moltissimi custom uno diverso dall'altro, possiamo avere ASG più veloci, oppure più precise o più silenziose, in base a quello che appunto il cliente desidera. Insomma, il nostro team di Raffuz è pronto a esodire ogni vostro desiderio, ogni vostra modifica, ogni vostro accorgimento sulla vostra replica. Insomma, possiamo accontentare il cliente in ogni sua piccola richiesta, sia a livello estetico che all'interno appunto del fucile, quindi a riguardo della meccanica. A livello di prestazioni meccaniche. Quindi, se volete acquistare questa replica, customizzarla e chiedere qualche informazione, potete contattarci al numero 347-401-7372, lo mettiamo anche qua. Oppure, alla mail raffuz-raffuz.it, potete visualizzare tutte le nostre offerte sul sito www.raffuzainsoft.com. Inoltre, dovete seguirci su Facebook, Instagram, Telegram. Insomma, seguiteci ovunque, basta non per strada. Così rimarrete aggiornati su qualsiasi notizie, magari su altre promozioni come questa. Inoltre, lasciamo in descrizione del video il link dove poter trovare l'ASG sul nostro sito. Direi che da Skoll, da Panther e da tutte le ASG del Somaluk è là dietro. Auguriamo a tutti una buona serata. E una buona giornata. Ciao. Una buona mattina e un buon pomeriggio. Hai rovinato tutto comunque. Hai rovinato tutto. Ciao. Rifai il video.